Siamo sempre negli studi tv di centro dei nostri main sponsor Piccole Trasgressioni e il Piccole Magazine che ringraziamo come sempre per l'ospitalità e adesso siamo in compagnia di Lorenzo Canale. Tu Lori sei uno dei pezzi di 90 arrivati grazie al mercato estivo nel Sant'Agata. Nonostante la giovanità perché hai compiuto da poco 23 anni, hai già moltissima esperienza perché hai militato in tutti e tre i campionati nazionali di futsal, quindi A1, A2 e B. Allora io ti chiedevo subito una domanda che va un po' sul remember, no? Quali sono stati i ricordi più belli, le tappe fondamentali che hai vissuto in una già così importante carriera sportiva? Allora innanzitutto buonasera a tutti, penso che i ricordi più belli, le tappe fondamentali in questo sport sono stati sicuramente quelli nel periodo dell'acqua e sapone, quando ho iniziato a stare in prima squadra ho fatto l'esordio in Serie A e quello sicuramente è un giorno che ricorderò per sempre poi anche la convocazione in nazionale Under 21 è stata una soddisfazione parecchio importante l'emozione di poter vestire la maglia della nazionale. Poi ho cominciato un percorso in cadetteria e anche lì mi sono tolto alcune soddisfazioni ricordo con piacere la stagione ad Ascoli Piceno con la SKL dove eravamo una squadra di tutti i ragazzi e con un gran lavoro comunque siamo riusciti ad arrivare ai play-off poi naturalmente il campionato si è interrotto a causa Covid e diciamo ho avuto tante soddisfazioni in questo sport e spero di togliermene ancora altre. Assolutamente, insieme a noi speriamo. Allora tu vieni da Montesilvano in provincia di Pescara che è la patria del calcio a 5 sport che hai iniziato a praticare da giovanissimo molto presto quindi ti faccio questa domanda se tu dovessi dare un consiglio ad un bambino oggi che si approccia per la prima volta a questa disciplina che consiglio gli daresti? Allora innanzitutto non mi sento in posizione di dare un consiglio a qualcuno perché non mi reputo ancora un giocatore affermato spero di diventarci, di farlo nel migliore dei modi consiglio però sicuramente che posso dare e che questo è uno sport che va seguito e praticato con passione e alla base secondo me la passione per andare avanti e soprattutto la voglia di migliorarsi la voglia di crescere sempre e trovare nuovi stimoli secondo me queste sono le cose fondamentali per avere poi una buona mentalità e riuscire ad affermarsi in questo sport. Bellissime parole, spero che qualche bambino che vedrà questa intervista le ascolti. Allora tu sei Lorenzo Canale e lo ripeto, lo ribadisco perché Canale è un fattore che contiene nel tuo cognome il fattore C di calcio perché tu hai un fratello che gioca nel campionato cadetto di calcio a 11 nella Ternana, giusto? Sì, lui gioca in primavera, è più piccolo. Dicevo che più che avere la famiglia Canale il DNA è lui che l'ha trasmesso un po' a noi perché diciamo ad esempio io non praticavo prima calcio poi mio fratello è nato con questa passione, è nato veramente con il pallone tra i piedi già da piccolissimo, questa passione per il calcio, per il calcio ha mosso tutti i suoi primi passi nel Pescara, ha fatto tutte le giovanili ha sempre detto la sua a livello giovanile quest'anno è arrivata la chiamata della Ternana, sta giocando nella primavera nazionale sicuramente diciamo un campionato di livello ha l'opportunità per diventare un giocatore professionista io spero che ci riesca anche perché ha tutte le qualità per farlo Noi glielo auguriamo a Luca, giusto? Si chiama tuo fratello? Sì, sì, glielo auguro anch'io Allora veniamo invece al Sant'Agata come vedi il campionato che ci attende e soprattutto dove pensi possa arrivare questa squadra? Allora secondo me andiamo incontro ad un campionato bello tosto ci sono parecchie squadre della nostra regione molte sono attrezzate con grandi giocatori altre sono ostiche non avremo mai partite facili diciamo così però allo stesso tempo anche noi abbiamo allestito una grande squadra secondo me siamo giovani ma con tanta qualità se troviamo la giusta coesione come ci stiamo lavorando in queste settimane di preparazione sicuramente diremo la nostra le prospettive secondo me sono quelle di riuscire a disputare i playoff e poi vedremo chissà Su questo direi di incrociare entrambi le dita Lori, vero? Perfetto, grazie mille di essere stati dei nostri Grazie mille di essere stati dei nostri